Super bonus, ricostruzioni, infrastrutture strategiche come la velocizzazione ferroviaria Pescara-Roma e l'aeroporto, sanità, occupazione, legge elettorale, composizione della giunta e programma di governo. Sono stati tanti i temi affrontati nella lunga intervista al governatore rieletto Marco Mersilio che ieri è stato ospite di Rete8 per l'appuntamento settimanale dei fatti e le opinioni. La trasmissione di approfondimento curata è condotta dal direttore Carmine Perantuono. Il presidente della regione Abruzzo ha risposto anche alle domande di Piero Anchino, direttore del Quotidiano al Centro, che oggi a pagina 2 ha pubblicato un estratto della lunga intervista realizzata nei nostri studi televisivi. Tempi brevi per il varo del nuovo esecutivo, presumibilmente entro la prossima settimana, ha annunciato Marco Mersilio rispondendo alle domande dei due direttori. Sapevamo che se il centrosinistra, se si fosse realizzato il campo largo, larghissimo, la partita poteva essere riaperta e per questo siamo stati anche molto attenti e determinati a non sottovalutare mai l'avversario. Il risultato ci ha dato ragione e adesso ci carica di una importante responsabilità. è la prima volta che l'Abruzzo non conosce un cambio della guardia, ieri in regione erano anche un po' gli uffici comunicazioni, dice ma in genere facciamo il passaggio delle consegne, la cerimonia, questa volta non si fa, si va in continuità, c'è bisogno, presenteremo direttamente la prossima settimana la giunta e basta, insomma tutto qui e poi si continua a lavorare. Ritornando poi sulle elezioni, il presidente Marsilio si è complementato con Rete 8, il centro e Antonio Noto per l'impegno e la professionalità impiegati per la maratona elettorale dello scorso 10 marzo. Vi devo fare i complimenti davvero perché Rete 8 in quelle ore è diventata il centro del mondo, tutta l'Italia guardava e aspettava i dati da pescare dalla redazione di Rete 8 e quindi avete fatto davvero un colpo di grande giornalismo perché nella marginalizzazione e nella indifferenza che spesso le reti nazionali hanno nei confronti dell'Abruzzo, aver costruito quell'appuntamento e costretto le maratone di Mentana piuttosto che Vespa, Tg1, Tg2, tutti collegati a rete unificate con Rete 8 per sentire da Antonio Noto quale fosse l'ex il pole è stato davvero un colpo da maestro, quindi bravi e siamo orgogliosi di voi perché se l'editoria abruzzese si dimostra così all'altezza e capace tutta l'Italia se ne è dovuta accorgere.